ciao a tutti ragazzi sono gabilo oggi siamo su oggi siamo su questo gioco tipo gta però che è morto S1 no, va qui, shift ah il turbo no con Q sui spa c'est cool oh l'autre oh c'est cool c'est cool c'est cool ecco con shift c'è tipo il turbo un attimo ma questi se mica mi attaccano mi c'è rispondono una sega prendiamo c'è aspetta ah 5 su 20 cazzo 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 mi cazzo cazzo Aspettate un attimo, sono sempre che c'è quei giochi gratuiti su quella store che vi ho senta male, c'è una, non prendo niente, no Il realismo è proprio Ma non devi uscire Cazzo Entra Che cazzo è successo Che cazzo è successo Ma è scemo Sto mosto in merda Perché non funziona Io ho Io ho un cazzo Sto facendo Cazzo è sempre un gioco gratuito Cioè Vogliamo dire tipo GTA Cioè vogliamo dire che è tipo GTA Per essere buoni Ma È una copia È una copia di GTA È sufficiente È sufficiente Ci dicono Non fa schifar cazzo Cioè Non fa schifar cazzo Cioè perché Non fa schifo Può andare bene Perché Non ha manco il gioco Cioè perché Non ha manco Uno dei tanti GTA Che esistono Ma è impossibile Ad esempio io Il mio primo GTA L'ho avuto Quando avevo 8 anni Ma sapete Per quale console Cioè Voi dite C'hai la Playstation 2 Quindi c'hai GTA San Andreas No No C'avete presente La Playstation Vita Cioè No Scusa Errore mio La La PSP Sapete La Playstation Vita La PSP Quella Ma questo è chissà 3 Cioè C'ho proprio GTA Liberti Si Se non ci credete Ce l'ho ancora E La coglione Che bello E' il palo Madonna Santi Il palo Ma buttalo giù Cazzo Buttalo giù Finca Dai Dai Cioè C'è C'è Sempre Però Sto Sta Questo Tipo C'è Il GTA C'è E' comodo Per chi Non Vuole Pagare C'è Perchè E' Ticchio Tipo Tipo Che so Mr. Krab Si Si Non c'entra Niente Però Per Sarà Più Sarà Lei Si Ma Io Cazzo Non c'è C'è Sì C'è Schifo Non fa Perché L'arma C'è C'è I Proiettimi Infiniti L'auto C'è Che Non si rompe Che Non si Scassa Mai C'è Si La Grafica Non è Delle Migliori Però Mamma Mamma Sant'è Ma Scenda C'è Ma Guardate La Cosa Che Non è L'irrealismo Fatta Persona Vabbè C'è Tecnicamente Se Spari Ad una Macchina Della Polizia La Prende E Ti Fa Un C'è Un Culo Tanto No C'è Più Persona No Se Una Cosa Molto Molto Reale Che C'è Un Fucile Lungo Tre Metri E Tu Ci Guidi Tranquillamente Ma Vabbè Io Sto Mando Tanto 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 com'è 12 minuti comunque ragazzi cioè io che vi posso dire se vi è piaciuto questo episodio poi lasciate un bel mi piace cioè se vi è piaciuto c'è lasciate un bel mi piace iscrivetevi la solita pubblicità perché comunque se vi è piaciuto questo video poi voi lasciate un bel mi piace commentate iscrivetevi mettete mi piace condividete il video a chi cazzo volete non apparenti tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video cioè che sarebbe quando domani se domani per un prossimo video credo sembra di questo gioco beh non vi posso dire iscrivetevi e condividete croce più importante bella ragazza